A Cremona continua a far discutere il progetto di costruzione del centro commerciale Cardaminopsis e del nuovo polo logistico, che sorgeranno nella frazione di Picenengo ed occuperanno rispettivamente 67.000 e 150.000 metri quadri di suolo, una superficie che ha suscitato le polemiche del comitato cittadino composto proprio dai residenti di Picenengo, che lamenta il fatto che, al momento, le promesse emerse nel primo incontro avvenuto qualche mese fa con l'amministrazione non siano state mantenute e continua a porre l'accento sull'impatto ambientale che le due strutture avranno sul territorio, in termini di sfruttamento del suolo, aumento del traffico e peggioramento della qualità dell'aria. Il polo logistico sarà grande oltre 150.000 metri quadri, quindi dei terreni agricoli attualmente usati per l'agricoltura verranno completamente cementificati e verrà costruito un polo logistico alto oltre 20 metri in cui passeranno ogni giorno diversi automezzi di trasporto pesanti che passeranno anche molto vicino al paese. Invece il polo commerciale che verrà costruito vicino al minaretto di Picenengo, quindi in pieno centro del paese, sono oltre 60.000 metri quadri, vicinissimo a numerosi altri centri commerciali che andranno a pesantire ulteriormente anche la viabilità e il traffico sia di Picenengo che la tangenziale di Cremona. I progetti stanno andando avanti, le autorizzazioni procedono. Noi entro questo fine settimana presenteremo alla provincia di Cremona le nostre osservazioni in merito all'autorizzazione a procedere con la valutazione di impatto ambientale per il polo logistico. Noi abbiamo avuto un incontro con l'amministrazione a fine dicembre da cui siamo lasciati con la volontà di rincontrarci e abbiamo chiesto all'amministrazione di venire in paese a parlare con le persone. A distanza di quasi tre mesi siamo ancora ad aspettare. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un evento per sabato 23 marzo in paese. Un momento per ritrovarsi fra i cittadini di Picenengo che invitiamo ma anche le persone di Cremona interessate a riscoprire e capire tutta la tematica del consumo di suolo.